Venite, venite, venite tutti, venite tutti, ormai lo conoscete, questo è il gioco in cui più si ingarellano tutti i nostri ospiti. No, vicino a lui no. No, io vicino a Paolo Antonio, non ci voglio stare, che è in piccia. Nessuno vuole stare vicino a me. Eh, ma è in piccia. Perché lei bara, maestro, lei bara ed è violenta. Ancora sta cosa, guardo. No, 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 allora. Sei sicura che questo è qua? Signori, mani dietro la schiena, si gira in senso orario, quando e solo quando si ferma la musica del maestro Cirocino potrete accalappiare una gallina. Chi rimane senza gallina torna a posto. Chiaro? Sì! 3, 2, 1, musica! Non mi spieghere, non mi spieghere! Non mi spieghere! Non mi spieghere! Ce l'ho, ce l'ho! Che è rimasto senza? Lo tengo! Che è rimasto senza? Massimo, subito! Ce l'ho mai a posto! Un applauso a Massimo Lopez! Ragazzi, facciamo una standing, uovescio! Uovescio! Mani dietro la schiena, 3, 2, 1, musica! Ah, esatto, c'è pure tu! Mi controllo. E' il gioco! E' il gioco per caffoni! E' il più bello, è il più bello, è il più bello! E' da caffone questo gioco! Mi voglio darritere! No, vicino a Piappola, Antoni, no! No, vicino a Piappola, Antoni! E' il più pericoloso! Ma perché? Perché no! Posa la gallina! Mani dietro la schiena, 3, 2, 1, mettale le mani, mettale le mani! Siamo amici, Francesco, senza faccita e male, ok? Se voi ce lo divitiamo, ok? Ok? Se voi ce lo divitiamo... Gioca! Oh, mamma mia! Musica! Non ammette! Scusa! E' il gioco! E' il veloce! Dai, dai! Oh, ciao! Ci è rimasta senza! Nathalie! Ciao! Ciao, Natalie! Ciao, Natalie! Facciamo un applauso a Natalie! Diamo una gallina di consolazione! Vieni, Natalie! Portatela a casa, vai! Torniamo! Ma esso non la vedo particolarmente affaticata oggi, eh? No, 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 è la tensione! È la tensione! Pronto? Vai! 3, 2, 1, musica! Tra lune e stelle, un lato... Non è 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 un attimo! Non muovetele male! Andiamo al bar! No, no, no... Andiamo al bar! C'è una situazione un po' scomoda... No, l'abbiamo presa proprio insieme... Che risolveremo così... Risolveremo così... Con la contesa come si fa nel basket... Io la lancio... Chi la prende resta in gioco... Siete pronti? No, grande! Ma io per il cavale... Oh, no, no, no! Ti devi battere! No, no, no! Per rispetto! L'Ore, 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 L'Ore! Ma io la lancio... Non ci sono legole! Io la lancio, no, però non vi dovete spintoccare prima! Oh, no, 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 no! Voglio stare in mezzo, ma... Appaccetelo! Oh, ok! Allora... Vieni qua! Lei, lei, non deve... Lei, non deve... Sei un balsacco che fa la storia! No, 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 no! No, guarda che ti metto in punizione se dici le parolacce, eh! E' stato lui! Ha cominciato... Fate pace! Fate pace! Venite qua! No! No! L'ho visto! Io la spalio, fate pace! Fate pace! Guarda, guarda, guarda! Faccia pace! Faccia pace! Guarda, chi leggera e bella! Vada là! Io odio questo show, te lo giuro, eh! Non ti sfidavo più! Non ti sfidavo più! Forza, mani dietro la schiena! E so furnotrata la vostra! Musica! Giovanni Esposito! Fuori! Fai schifo, Giovanni! Fai schifo! Ma come hai fatto a perdere? Come hai fatto a perdere? Sono stato picchi, ma di me stesso piace! Due galline e tre concorrenti! Vai! Tre, due, uno... Musica! Aia! Non ci posso credere! Perde il maestro Francesco Paolantoni! Mi fa il suo orgoglio! Tu no! Tu no! Non è possibile! Fai schifo! Torni a posto! Non c'è! Fai schifo! Signori, finale tutta al femminile! Lorella Boccia e Andrea De Logu! Dai, passerà, passerà! Stefano! Se n'è andato! Se n'è andato! Torni qua, maestro! Maestro, torni qua! Non è successo nulla! Stefano, volevo ricordare che il signor Paolo Antoni ha perso e è squalificato! Se è visto, se è visto, se è visto! Non faccia così! Non è che devi sottolineare per forza! Non faccia così! Se è visto, se è visto! Non devi sottolineare per forza! Ma perché c'è questo accanimento? Ma qual è il problema? Ma spiegami! Non faccia così, maestro! Passiamone! Eh, non faccia così! Faccia a faccia! Non faccia così! Qual è il problema? Non faccia così! Ho fatto i tuoi sorelli! C'è, ancora ci! Ancora con queste cose! Con queste cose! Con tutti! Dopo anni! Con te! Ricomponiamoci! Finale tutta al femminile! Andrea De Logu contro Lorella Boccia! Siete pronti? Viva le donne! Vediamo chi vincerà solo dopo la pubblicità! Bentornati a stasera! Tutto è possibile! Finalissima di Ruba Gallina! Lorella Boccia da un lato! Andrea De Logu dall'altro! Vediamo chi avrà la meglio! Maestro Cirocino? Senti, se pareggiano! Possono fare la lotta nel fango! No! Ah, non possono pareggiare! Lei non ha l'età per sopportare uno scenario del genere! Ti viene la cataratta! Musica! Due acuile! No! Hai avuto una micropausa però! Due acuile! Due acuile! Guardate! No! Mettetene! Quei due! Vi ho pausa e fa un'età! Oh! Che voi vince lo lei? Boccia! Sassera tutto! Ringraziamo il maestro Ciro Cino Siete carichi? Beh, abbastanza